Premiazione in categoria esordieti B maschile Tadami Nandutu, Teresa Roiner e Caropoli Sofia Gruppo sportivo per me loro Caropoli Sofia e Roiner Teresa Grazie per la Tadami Nandutu Grazie a tutti Classificati Carlo Sanferro Alonso, direzione 3 E Davide Borgato, carattere non-vento Secondo classificato per la carattere fatta morgana, Mirko Baveta Vince per la rappresentativa campagna Daniele Pedrino Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie. Grazie.